Tragedia a Schio nella notte fra venerdì e sabato. Una ragazza di 22 anni, Clelia Comparin, è stata trovata morta dal ragazzo con cui conviveva nel quartiere di Santa Croce. Secondo quanto riporta il giornale di Vicenza, i soccorsi sono stati chiamati dal ragazzo, originario di Tiene, con cui viveva. I carabinieri di Schio stanno indagando, nel massimo riservo, sulle cause della morte. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto con un'ambulanza. Originaria di poleo, diplomata all'istituto professionale Garbin di Schio, Clelia Comparin era una ragazza molto solare, amante, come emerge dai suoi profili social dei cavalli e della musica tecno. Non so come sia potuto accadere, ma resterai sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. La tua risata è indelebile. Ciao Fatina, si legge su Instagram dal profilo di una mica. Grazie. Grazie.